Il Consorzio Integra, per suonatura e sue caratteristiche, si concentra da sempre sull'integrazione delle diverse infrastrutture e anche delle diverse tipologie di infrastrutture e di servizi all'interno delle imprese che sono in grado di realizzare, eseguire lavori e prestare anche i relativi servizi. Fa della sostenibilità da sempre un concetto fondamentale su cui basare lo sviluppo delle proprie imprese e anche quindi la realizzazione delle infrastrutture. In quest'ottica io penso che soprattutto in questo contesto sia fondamentale ragionare in termini di progettazione integrata. Progettazione integrata delle infrastrutture tra i diversi settori. Settore infrastrutturale della mobilità sostenibile a terra ma anche della mobilità marittima. Quello che il Consorzio vuole rappresentare e vuole concorrere a promuovere è il concetto di pianificazione sempre più portando le imprese a sviluppare una capacità predittiva che consenta al nostro Paese di avere quella vera integrazione tra le opere che consente poi di far sì che i servizi alla collettività siano resi in maniera più integrata possibile. Non si può ragionare sullo sviluppo, l'incremento delle banchine senza pensare, riflettere sul fatto che alle banchine bisogna arrivare e quindi su tutte le opere che le banchine portano. Noi come Consorzio siamo operativi sulle opere a terra, sulle opere a mare, in particolare su tutto quello che oggi riguarda lo sviluppo anche energetico di queste infrastrutture, perché convinti che debbano far parte di un processo trasformativo molto più ampio che va verso anche l'innovazione e la digitalizzazione del nostro Paese. Abbiamo acquisito appalti per la realizzazione delle banchine, delle colonnine di Cold Ironing, siamo operativi sulle infrastrutture, le metro leggere, le infrastrutture di trasporto rapido e di massa, sempre improntando sempre di più la progettazione e anche criteri di sostenibilità per far sì che si intercettano al meglio i bisogni della collettività.